Un tentativo purtroppo di intimidazione che mi lascia una grande amarezza perché non penso di essere io il nemico del movimento, io semmai porto i valori del movimento in un'altra lista che è in continuità con le idee del movimento dopo che sono stato cacciato, io non sono passato dal movimento a rivoluzione civile io sono stato cacciato dal movimento senza un motivo credibile, valido, facendo un danno al movimento, quindi dimostrando di non tenerci al movimento e decidendo di lasciare la regione indipendentemente dal Parlamento, ho dopo due settimane accettato la proposta di Ingroia che mi ha garantito totale indipendenza, non mi devo iscrivermi su un partito movimento, è tre anni che faccio politica, l'ho fatto tagliandomi lo stipendio rinunciando ai privilegi e fa sorridere che Grillo mette a moto una macchina del fango in rete contro di me.